Riparte il turismo della regione Abruzzo a tagliare il nastro di inaugurazione della nuova pista ciclabile Casteldisangro-Scontrone l'assessore regionale alle politiche agricole di sviluppo rurale, cicloturismo e contratti di fiume Dino Pepe assieme al sindaco di Casteldisangro Angelo Caruso, al presidente del Gallo Abruzzo Italico Alto Sangro Domenico Mastro Giovanni La regione punta sul turismo attraverso dei progetti di innovazione tecnologica Sì, oggi inauguriamo qui a Casteldisangro una pista ciclopedonale finanziata dal piano di sviluppo rurale 2007-2013 investimenti importanti che attraverso i fondi strutturali europei noi riusciamo a fare sia lungo la costa ma anche e soprattutto sulle aree interne crediamo molto alle potenzialità delle aree interne del nostro Abruzzo caratterizzate da oltre il 40% di territorio di aree protette di aree che possono sviluppare attività soprattutto turistiche Un percorso, quello riservato alle due ruote, costato complessivamente 395.000 euro La pista che sarà lunga 5 km in totale è stata inaugurata per il primo lotto A tutti gli effetti è la concretizzazione del nostro piano di sviluppo locale ovvero una serie di investimenti materiali come quello che inaugurano i materiali come la web tv che hanno come obiettivo quello di fare entrare questo sistema locale nel mercato globale attraverso un miglioramento della accessibilità di questo territorio ma anche della sua attrattività come territorio locale in un contesto globale L'importanza del GAL Abruzzo Italico Alto Sangro sul nostro territorio? È una specie di motore di sviluppo e quindi una specie di agenzia che mette insieme le migliori forze sia pubbliche che dell'imprenditoria privata al servizio dello sviluppo che è competitività e sostenibilità allo stesso tempo Grazie Grazie